No, non è una mossa sensata, vabbè, no, non è una mossa sensata, perché tanto potremmo scendere, ma non mi so decidere. A questo punto andiamo avanti, facciamo il giro. Comunque sali su qua, eh? Ok, fermiamoci un attimo lì dalla cresta, vediamo se vediamo qualcuno di là. No, no, non andare di là. Che così ci... Ho visto uno. Oh, l'ho neutralizzato, non so a quanti migliaia di metri. A quanto ha il ping? 100, 200, 300 metri, vabbè, ne è anche tantissimo. Comunque l'M24 è una bomba, porca troia. Oh, ho visto gente. Eccomi. Vieni verso di me. No, via. Ok. Sì, la prima casa vicino, questa, eh? Questa, questa. Ah. Quando vedi un caricatore per terra che non è segnato con la freccetta gialla, vacci sopra e schiaccia option, che magari uno è tipo ad estrazione rapida ed esteso, cioè, a un certo punto non te lo dice più. Visto. Morto. Porca troia. L'ho detto anch'io, visto morto. Con l'otto perle M24, uno che era in piedi, dietro un cespuglio. Bellissima, questa qua. Sì, sì. Nella live, ma l'ho messa in live? No. Vabbè, questa è vista morto. No, no, non l'ho messa in live, scusa. Allora salvo. Ci faccio una clippina.